Ha ricevuto il pieno titolo di parroco a Santa Caterina di Saragozza Don Luca Marmoni che dal 2012 reggeva la comunità come amministratore parrocchiale succedendo a Monsignor Celso Ligabue. Don Luca che è anche assistente diocesano dell'Unitalsi e coordinatore dei gruppi di Padre Pio e dell'Apostolato della Preghiera ha 50 anni e ha svolto il ministero a Santa Maria Madre della Chiesa Borgo Panigale e poi come parroco a San Vincenzo di Galliera, Pizzano e Sassuno.